Felice Cavallotti era davvero felice? In ogni caso benvenuti in Biografie in 60 secondi. Felice Cavallotti, chi fu un patriota, anche lui, che combatté per l'unità d'Italia e fu soprattutto uno dei fondatori del partito radicale, la sinistra storica cadde, intendo. Il partito radicale era un partito di estrema sinistra, che si collocava sempre all'opposizione durante i governi nel periodo del Regno d'Italia. E lo ricordiamo per questo, per essere un baluardo della democrazia e della Repubblica, lo ricordiamo. E per le sue, beh, invettive, per i suoi poemi, drammi e altro.